ciao maradona ciao buongiorno parco giochi oggi ha coperto senti maradona bambino maradona bambino è quasi è quasi sempre quello che ci fa vincere in qualche modo nella nostra vita ma in generale in qualsiasi cosa è sempre ricordare il bambino che c'è dentro di noi e io me lo ricordo abbastanza spesso forse dovrei ricordarmi lo di meno ma ogni tanto sei ancora bambino sì assolutamente infatti in questo momento sono un po bambino seduto qua sullo scivolo e sono già un po bambino senti bambini gli adolescenti tanti giochi tanto sport anche però poi c'è anche il momento delle merende è quello quello è il momento sicuramente più bello per un bambino per le merende le merende sono sono una cosa secondo me per un bambino importante uno dei pasti principali magari per un adulto può fare meno però il bambino è uno dei suoi pasti principali preferiti anche perché li può mangiare un dolce lui li può bere un succo sempre sempre dico una cosa sempre alle mamme piuttosto di andare in negozio e comprare sti succhi già fatti fatene una una bella centrifuga di mela carota sedano un po di zenzero cioè fa molto bene alla salute e fa bene ai bambini a piace anni fa nelle famiglie si cucinava magari la domenica con i bambini la mamma con i figli la nonna con i nipoti e i bambini si affezionavano e imparavano anche i piatti della tradizione è una cosa che si sta perdendo una cosa che si sta perdendo purtroppo perché perché non saprei dire se sono i produttori che non portano più i bambini delle nonne o le nonne del giorno d'oggi non sono più le nonne di una volta non saprei quale delle due però sicuramente dobbiamo dare importanza una grande importanza al fatto che un bambino deve stare con la nonna deve vederla cucinare la nonna deve mettersi un po a cucinare ma non per per dovere ma è per una questione di trasmissione ed educazione allora se vogliamo anche educare un bambino uno dei momenti più belli sarebbero giocare con la pasta giocare con gli gnocchi giocare a fare il ragù tutte queste cose sono credo per un bambino siano delle cose molto belle e divertenti bene io direi di lasciare spazio a maradona bambino ciao ciao ciao